Sì, sei, tu hai chiuso a spiegci. Sì, è un'ora di accettata. Io vorrei essere arrivato a nonso che vorrei essere ridotto a tutti i macchi. Sì, sei, tu hai chiuso a spiegci. 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 Sì, sei, tu hai chiuso. Sì, sei. Sì, sei. Sì, tu hai chiuso a spiegci. Sì, sei. Sì, tu hai chiuso a spiegci. 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 Tu hai chiuso a spiegci. Tu hai chiuso a spiegci. Tu hai chiuso a spiegci.